Un match da dentro fuori che vale una stagione al comunale di Ortona e padroni di casa di Mr. Savini ospitano il Miglianico per la finale playoff del Giro del C di promozione. Due risultati su tre per l'Ortona per accedere al triangolare con Fontanelle e Montorio. Venendo al match 3-4-2-1 per Savini con Ligoschi e Dragani ad azionare l'unica punta in diaia. Miglianico senza Morelli infortunato nella semifinale con la Casolana 4-4-2 Criscolo Russo davanti. Garata subito bloccata ricca di tatticismo la prima occasione al 17esimo quando Ndiaye viene mandato in porta ma grande il ripiegamento di Cinguino che guadagna anche una rimessa dal fondo. Subito dopo la prima occasione del Miglianico il cross dalla destra di Maggiore trova la deviazione al volo di Florio palla fuori. Al 23esimo il vantaggio del Miglianico punizione dai 20 metri circa sulla battuta lo specialista Criscolo che sul palo di Pelusi trova l'angolo giusto e porta avanti gli ospiti. La reazione dell'Ortona arriva soltanto al 40esimo tra versione di Ligoschi con Diaye che viene anticipato al limite dell'area piccola. Un giro di lancette più tardi errore di impostazione di Miccoli ne approfitta Criscolo che si presenta face to face con Pelusi ma spara addosso al numero 1 in uscita. Nella finale di tempo Scucci Marra allunga in corner un tentativo da fuori di Dragani. Con le immagini di Simone Luciani nel secondo tempo e tutta un'altra Ortona entra Di Donato e cambia radicalmente la formazione casalinga. Al quarto lo stesso numero 16 impatta sul primo palo palla che esce di un soffio. Al nono succede di tutto Di Donato azione di Aie che viene murato da pochissimi metri azione che prosegue con Dragani che trova la grandissima risposta di Scucci Marra. E la volta di Ligoschi punizione alta di un soffio. Alla ventesimo la situazione torna in parità. Ligoschi costringe la retroguardia ospita a rifugiarsi in corner dagli sviluppi. Battuta corta con Di Aie che trova la deviazione vincente di Martelli per l'1-1 che manda in visibilio il pubblico del comunale. Il gol sembra non rivigorire la formazione di Savini che smette di spingere al 26esimo. Dragani costringe Scucci Marra la deviazione in corner. Non accade nulla all'ultima occasione a ridosso del novantesimo quando prima Di Moia poi Marinello cercano senza riuscirci di sfondare la retroguardia ortonese. Si va ai supplementari mentre nel primo appunto dei 15 minuti di extra non succede nulla nel secondo. L'ottavo errore di Cinquino pallone in profondità per Pompiglio che si presenta tu per tu con Scucci Marra e lo batte per il 2-1. Il Miglianico reagisce all'ultimo istante e la punizione di Cialini si stampa sulla traversa e poi finisce sulla testa di Lue Nus che iscrive il definitivo 2-2. Termina adunque così Ortona che accede al triangolare di spareggio con Fontanelle e Montorio per via del miglior piazzamento in classifica. Ortona-Miglianico 2-2.